Sono Cesare Mattiattolini e mi occupo dell'area commerciale e delle creazioni delle collezioni insieme a mio fratello e mio padre. Durante i miei viaggi una delle più grandi soddisfazioni è quella di comprendere quanto l'alta arte sartoriale napoletana sia amata ed apprezzata in tutto il mondo. Uno dei miei compiti è quello di portare il nome di stile latino quanto più in alto possibile. Oggi il nostro prodotto è presente in gran parte del mondo dagli Stati Uniti al Giappone passando per l'Europa che ancora oggi rappresenta il nostro primo mercato. Uno dei nostri obiettivi è quello di diffondere il brand attraverso l'apertura di boutique monomarca. Sono orgoglioso di far parte di una famiglia che porta avanti da generazioni la sartoria napoletana in tutto il mondo.